Con Alberto Contento dallo stand Nordica vi presentiamo la principale novità in campo scarponi del marchio italiano. Buongiorno a tutti, noi come sapete abbiamo cominciato una revisione completa della collezione tre stagioni fa con l'introduzione dello Speed Machine. Abbiamo introdotto lo Sport Machine l'anno scorso e per chiudere il cerchio della famiglia Machine abbiamo introdotto la linea Pro che è la linea più performante, una scarpa molto innovativa dal punto di vista sia della costruzione che delle caratteristiche tecniche. Una scarpa leggera, 98 mm quindi abbastanza stretta, una calzabilità completamente differente agli altri due modelli che va a chiudere completamente il cerchio e quindi nella famiglia Machine riusciamo a racchiudere esattamente tutti i piedi, quindi tutte le persone possano trovare la scarpa perfetta per le loro esigenze senza assolutamente diminuire il comfort e diminuire soprattutto la performance. Noi vogliamo che indipendentemente dalla forma del piede della persona lo sciatore trovi la scarpa perfetta e garantiamo le caratteristiche identiche su tutte e tra le linee dando oltretutto un benefit eccezionale a chi le prova. La linea Pro Machine diciamo che è il top di gamma della linea Machine, della famiglia Machine, è uno scafo bignettato quindi il massimo della costruzione dal punto di vista tecnologico con oltretutto l'inserimento di un extra flap che consente l'entrata ed uscita in maniera estremamente agevole per una scarpa di questo tipo. Non potete vedere la scarpa anche esteticamente e volutamente è stata costruita in maniera molto anatomica, seguendo veramente le linee del piede. Questo per due motivi, uno per aumentare la leggerezza e uno per mantenere esattamente la forma del piede e quindi anche le trasmissioni delle forze corrispondono esattamente alla forma che abbiamo voluto dare allo scarpone. Scaricarlo dove non serve avere tanta plastica, dare più sostanza invece dove la plastica trasforma l'energia verso lo sci. La scarpa ha il DNA di Doberman in sé, se i nostri affezionati Doberman ricordano la parte posteriore è esattamente quella ricavata e ripresa dal Grand Prix che avevamo introdotto che è stato il precursore della linea Doberman. La linea Pro Machine è costruita quindi attorno al piede e ha tutte le caratteristiche di customizzazione che uniscono la linea Machine a tutti i tre modelli. Quindi la customizzazione con la tecnologia infrared per quanto riguarda lo scafo esterno e la customizzazione della scarpetta che è direttamente collegata a quello che già conoscete con la linea Speed & Sport, quindi costruzione in sughero con la costruzione 3D e la possibilità di customizzarla nel forno. Quindi è una scarpa che può essere perfettamente adattata ad ogni piede. La caratteristica tecnica anche importante è l'evoluzione delle suole, che sicuramente potrà essere un argomento molto importante per il mercato dello scarpone. Abbiamo inserito di default questa suola camminabile, quindi con un profilo roccherato, si chiama quindi rotondo, per far sì che la camminata sia più agevole e più sicura. E non ci siamo fermati a questo, ma abbiamo inserito la prima suola in gomma con il nostro partner Michelin su una scarpa tradizionale, che non è mai stata inserita in un tipo di scarpone con un gambetto fisso, quindi dai performance. Questo ci garantisce di avere una suola estremamente performante, che è derivata direttamente da un disegno di un pneumatico di un'auto usata nella 24R Le Mans. Un disegno asimmetrico, quindi abbiamo solo la destra e la sinistra, con dei tagli e delle sculture che esattamente rispecchiano quello che è l'esigenza di una grip, dell'high performance e soprattutto dell'estetica che è molto collegata a un mondo più corsaiolo rispetto a un mondo all mountain che abbiamo nell'altra categoria. Come vedete anche la scarpetta è un qualcosa di particolare. Noi diciamo sempre che vendiamo un prodotto nel prodotto. La scarpa è veramente qualcosa di indipendente a quello che è lo scafo in plastica. Noi vendiamo veramente una calzatura costruita in maniera artigianale, con un sughero che è percepibile, quindi toccabile, con una conformazione del piede che segue esattamente le linee degli ossicini che molto spesso ci danno fastidio e che quindi evitiamo di avere punti di pressione con questo tipo di costruzione. Abbiamo inserito anche un materiale nuovo che è l'Isotherm. Questo materiale argento che vedete è quel layer che viene utilizzato alla fine delle competizioni sportive per mantenere il calore agli atleti quando arrivano. Questo fa sì che il calore all'interno della scarpa rimanga costante senza far sudare il piede. E abbiamo oltretutto inserito anche il sistema di regolazione della lingua con un velcro posto anteriormente che facilmente può adattare in funzione della lunghezza del polpaccio e anche della sensibilità della tibia dello sciatore la lingua in maniera perfetta. La scarpetta è molto leggera, pesa 180 grammi in meno rispetto a una normale scarpetta che era inserita su questa categoria e diciamo che questi due sistemi abbiamo creato un prodotto che può soddisfare esattamente le esigenze dello sciatore performante con un'altissima percezione del comfort mantenendo la performance molto alta. La linea Pro Machine è completa di otto modelli, quindi quattro modelli da uomo e quattro modelli dedicati da donna. Anche qui inseriamo la suola grip walk nel modello indicato con la linea GEW e all'interno della scatola comunque troviamo sempre la suola tradizionale nel caso uno sciatore voglia mantenere il setup che conosce in modo tale che lasciamo anche libertà di scelta al nostro utente di decidere che tipo di suola utilizzare. Quattro modelli uomo e donna, quindi dal 130, 120 e 110 di flex e dal donna partiamo dal 115 di flex fino all'85 con caratteristiche di costruzione della scarpetta e di fit differenti in funzione di ogni esigenza e anche di ogni tasca chiaramente.